Sul fenomeno del deschavu si sono interrogate generazioni di esperti della mente e l'ipotesi più accreditata, almeno finora, è che si tratti di un falso ricordo. I ricercatori tengono tuttavia a puntualizzare che queste conclusioni non dovrebbero allarmare chi un deschavu non l'ha mai avuto, può anche essere che la sua memoria funzioni talmente bene da non aver bisogno di passare l'antivirus per ripulirla dagli errori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.